Repetita Juvent Se l'open day famiglia in fattoria era stato un successo, rimaniamo a corto di aggettivi per definire il risultato ottenuto dal bis offerto dalla cascina Exodus nel giorno di Pasquetta. Centinaia di presenze, chiacchiere in relax, risate e profumini stuzzicanti provenienti dalle decine di barbecue sparsi nei tanti punti verdi appositamente allestiti e dalla pizza fragrante preparata al momento dai ragazzi della comunità, il tutto sapientemente mixato dalla musica di Exodus Radio. Chi era stato già qui in precedenza si è felicemente ripresentato con bimbi al seguito e cestini da picnic. Spinto dalle stesse motivazioni che riporteranno da noi in futuro chi invece si affacciava per la prima volta a scoprire e godere delle nostre strutture e dall'accoglienza ricevuta, sicuri come lo siamo noi che qui verranno trattati sempre da amici prima ancora che da ospiti. La giornata si è poi conclusa in bellezza con l'estrazione di una bici messa in palio appositamente per l'occasione. Siamo stati quando c'è stata la giornata della fattoria didattica, ci è piaciuta molto e siamo tornati. Volevo farvi complimenti perché è una struttura meravigliosa, organizzazione impeccabile, speriamo di venire qui anche l'anno prossimo. Andiamo a fare la ceramica dopo? Ok! Veramente bello, non c'era mai stato, un ambiente confortevole, molto bello. Siamo stati già qui all'open day, abbiamo avuto un'ottima impressione, un'ospitalità unica e quindi siamo tornati dal mare apposta per venire qui. Siamo trovati bene, quindi siamo tornati stesso posto, stesso tavolo. Siete tornati, vi sarete trovati spero bene. No, benissimo, vero? Siamo trovati molto bene, i bambini si stanno divertendo, è una bella giornata. Siamo stati diverse volte ospiti della struttura sia come privati sia come associazione libera autismo, siamo un'associazione di genitori di ragazzi autistici, quindi utilizziamo spesso e con piacere questa struttura. Bene, benissimo, ospitalità al 100%. Veramente bello, complimenti. Ritorneremo, ma non una volta sola, di più. Bellissima giornata con le famiglie, non è la prima, questa è già la seconda iniziativa di Exodus e la famiglia in fattoria. Complimenti sempre a Luigi Maccaro e Adriano Tonietti, insomma, che sono gli artefici di questa grande iniziativa, di questa realtà cassinate. Hanno organizzato noi, la mia associazione, la famiglia, insieme a Iano, la presiduta dall'amico e presidente della stessa, Luca Paladino, questa iniziativa che fa seguito a Io firmo per la ciclabile. Abbiamo raccolto un migliaio di firme per la città di Cassino per sostenere l'iniziativa popolare per realizzare un percorso ciclabile nel centro della città. E visto il grande interessamento della gente, insomma, dei cittadini, adesso il 22 aprile alle 16.30 appuntamento in piazza di Amare la chiesa di Sant'Antonio per andare tutti in bicicletta, bambini, genitori, ci sarà anche una piccola caccia al tesoro e saremo un paio d'ore in giro per la città e poi il grande arrivo sarà al Parco Bad & Power dove ci sarà una grande festa. Abbiamo visto anche grandi progressi che sono stati fatti, mancavano ancora i campetti, tante belle cose, una struttura bellissima. Quando i bambini stanno bene, stiamo bene tutti. Infatti oggi è una giornata fantastica, vedo tantissime persone che si stanno divertendo, stanno mangiando, stanno trascorrendo il tempo in compagnia con le persone, con gli amici, con i familiari. Una giornata favolosa, l'organizzazione è perfetta come al solito di Exodus. Exodus è aperto a tutti, sempre più persone, sempre più una comunità inclusiva. È la prima volta che veniamo, ci stiamo trovando bene, è veramente molto accogliente l'ambiente, tutto ben organizzato, veramente complimenti all'associazione. Una bella giornata, davvero bella, ringraziamo Exodus per la loro ospitalità, Luigi Maccaro e noi siamo già venuti qui anche in occasione della festa di primavera. Torniamo sempre molto volentieri perché è una giornata, ripeto, molto bella, insieme alle famiglie e ai bambini stanno bene, un bel ambiente. Complimenti ad Exodus. Giornata bellissima, una cosa splendida che coinvolge un sacco di gente in questa bellissima comunità. Complimenti a voi che l'avete organizzata e ci aiuta anche il tempo oggi, che è clemente, c'è il sole, per cui meglio di così. E allora concludiamo sintetizzando il parere di tutti i convenuti con lo stesso latino con cui abbiamo iniziato il servizio, Ic Manebimus Optime. Qui ci siamo fermati con piacere.